Devono provarci, vediamo Colombo, Colombo con Spinelli che prova la rimotta, vediamo testa a testa, vediamo Maltinti, vediamo Nicolás Spinelli, Nicolás Spinelli va a vincere! Nicolás Spinelli della Maltinti Lampadari ha vinto la 75esima Firenze-Viareggio, la classicissima di Ferragosto che ha visto fronteggiarsi i migliori ciclisti Under-23. Secondo posto per Raul Colombo della Work Service Group Vital Care, terzo gradino del podio per Francesco Edoardo Faresin della Zalf. Sì, è un'emozione grandissima, tutta la squadra ci teneva a questa gara, è una gara che Renzo è innamorato, ci tenevamo a fare bene, ci abbiamo provato fino alla fine, è uscito il risultato migliore che altro desiderare. Credo che oggi sia un giorno veramente storico per te, per tutti, ti vediamo veramente emozionato, è giustissimo. Sì, penso sì, è quello che ho sempre sognato e è successo in una corsa che ho sempre amato, che venivo sempre a vedere fin da quando ero bambino e veramente sono contento.